Perché comprare il brondi amico smartphone XL? Perché oggi nel 2023 è certamente uno dei migliori smartphone dedicati a chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. Lui è infatti basato su una versione di Android semplificata, caratterizzata da un'interfaccia grafica utilizzabile praticamente da chiunque, vanta il supporto a due SIM e 16 GB di memoria, il tutto acquistabile ad una cifra di poco superiore ai 100€. Chiunque oggi fosse alla ricerca di uno smartphone con caratteristiche complete ma al tempo stesso facilmente utilizzabile e avesse a disposizione un budget di fascia bassa potrà far riferimento al brondi amico smartphone XL.